Nuo assalto di Teorafè nell'aretino, stavolta ad essere colpita è stata la Multiform di Quarata, un commando di banditi, si è messo in moto con una tecnica ben calibrata in piena notte, hanno tagliato degli alberi in una strada circostante per impedire la circolazione delle auto, poi con una lancia Ypsilon hanno forzato il cancello dell'azienda e con una tecnica particolare sono riusciti a scardinare la serratura trascinando la struttura in ferro all'esterno, poi sono entrati all'interno del perimetro aziendale e sono riusciti a sfondare l'intercapedine di una porta che separa l'esterno con la produzione una volta entrati, hanno fatto saltare la cassaforte e sono riusciti a reazziare metalli preziosi, oro per la maggior parte, si parla di un bottino molto alto, superiore al mezzo milione di euro, un'operazione durata in tutto otto minuti quando la vigilanza è arrivata con i carabinieri, i ladri avevano già fatto perdere le loro tracce lasciando sul posto l'auto che è servita per aprire il portellone. Una tecnica simile a quella che di recente abbiamo già visto alla Jessica e alla Chini di Ponticino, non è da escludere che i ladri siano gli stessi, i carabinieri stanno indagando nella speranza di trovare tracce utili per poter risalire agli autori del colpo. Resta una considerazione, è il terzo assalto nel giro di poco tempo nell'azienda eorafe della zona, è chiaro che c'è una banda che conosce molto bene il territorio e colpisce sempre con la stessa tecnica.